buongiorno a tutti fratelli e sorelle bianconere siamo qui a commentare post mila juventus 0 a 2 juventus che sbanca quel di san siro una bellissima prestazione da parte dei bianconeri anche se come accennato nel dopo partita è commentato dallo stesso massimo allegri ai microfoni delle emittenti televisive private che hanno che hanno intervistato il mister juventus che partita un po troppo contratta nei primi 25 30 minuti juventus un po che ha sofferto a prendere le misure al milan dovuto anche al fatto del loro modulo con cui giocavano un 3 4 1 2 3 5 2 chiamiamolo come vogliamo ma densità molto a centrocampo da parte dei rossoneri che ci ha messo i primi 30 minuti un po in difficoltà abbiamo fatto fatica un po a prendere delle contromisure e anche accorciare accorciare bene la squadra per riuscire ad anticipare le loro giocate per riuscire a ovviare al loro pressing asfissiante poi dopo però 25 30 minuti soltanto juve una juve che comunque poi quando ha preso le misure è stata padrone nel campo si ha un po rischiato una su tutte le occasioni kallin c'è salvata in maniera quasi con tocco decisivo da san gigi buffon che ancora una volta dimostra che l'età non conta quando sei sempre ai vertici se sempre il numero 1 del mondo lo sei anche a 50 anni a 40 anni a 30 è una bella una bella partita una bella squadra mi è piaciuto l'instein l'instein ha fatto il compitino molto meglio sicuramente la sua prestazione rispetto alla partita del turno del turno scorso mi è piaciuta mi è piaciuta tutta la linea difensiva è stata molto accorta e molto attenta uno su tutti chiellini grande leader grande grinta anche a samoa che ha limitato che ha limitato suso uno di quelli che alla vigilia si era detto da noi ma anche dai detti lavori che poteva essere forse la spina nel fianco lo ha limitato bene aiutato anche dai centrocampisti da manzukic che rientrava quindi facendo un lavoro di copertura di raddoppio sempre molto prezioso e poi e poi uno su tutti gonzalo iguain che si vedeva che nelle ultime partite era in crescita invece dal punto di vista atletico si vedeva che stava bene correva per quattro queste ultime prestazioni gli mancava solo il gol poi si era sbloccato la scorsa partita con la spalla però tutti ovviamente a dire ma sì ma con la spalla squadra materasso è facile segnare contro la spalla e poi nel momento decisivo ieri sera contro il milan a san siro grande parcoscenico uno dei dei grandi parcoscenici italiani su cui giocare la scala del calcio che giocare una partita il pipita oltre oltre a fare la sua solita partita di sacrificio di corsa ha messo due due perine nella rete dimostrando ancora di essere un grande centro avanti che aveva solo bisogno forse di un po di fiducia di ritrovare quella quella fiducia anche psicologica oltre che atletica e ieri sera ha dimostrato di essere ancora lui uno dei 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 grandi attaccanti del nostro campionato molto bene anche il centrocampo mi è piaciuto tanto 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 quindi ottima prestazione adesso andiamo con la stessa fiducia essere riuscita a fare un altro un clean sheet in questo momento delicato della stagione quindi senza subire gol è molto importante andiamo a giocarci martedì una partita fondamentale per poter mettere al sicuro quel quel passaggio agli ottavi anche come secondi ma non importa metterlo al sicuro per poi poterci concentrare bene sul campionato in vista di un ritorno poi degli ottavi di finale di accesso agli ottavi di finale di champions che cominceranno poi da marzo permettetemi soltanto pochi secondi però al termine di questo mio video per stringermi intorno per cordoglio alla famiglia del grande Gino Bacci che lascia sicuramente un grande vuoto un grande vuoto in tutti noi che abbiamo seguito e seguiamo i canali Tele Lombardia Antenna 3 Top Calcio una persona che ho imparato a conoscere e a seguire per la sua lealtà e una di quei la vecchia guardia di giornalisti che non guardavano soltanto al risultato come la vecchia generazione risultato fatturati o altro ma non era sempre pronto a difendere gli allenatori senza dare per prima colpa loro ma diceva le cose come piace a me come sono io pane pane vino al vino e quindi un saluto a Gino Nebacci che dopo una settimana di giorni si è spento e quindi un abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia lascerà un grande vuoto negli studi di Tele Lombardia grande persona grande giornalista grande uomo detto questo ci sentiamo per la prossima partita prossimo video post Sporting Lisbon Juventus e fino alla fine Forza Juve Vamos!